Gabriele Cortopassi, aprironbar.com, siamo qui in mezzo a tantissimo caffè verde, beh sì, il caffè verde è quello che comincia dalla pianta e finirà nella tazzina del caffè del nostro bar. In questi eventi farevi piacere trovare moltissimi baristi per capire che la qualità del nostro espresso e le sensazioni che finiscono nella tazza del nostro espresso comincia esattamente da qui, da questi pacchetti di caffè verde, conoscerli, capire che i gradi, le indicazioni qui riportate, riporteranno anche alla qualità che usiamo nel nostro bar sarebbe importante. Quindi quello che consiglierei ai baristi è cominciamo a conoscere il prodotto crudo, cominciamo ad andare al mercato, cominciamo a ritrovare quella che è la qualità dell'espresso dall'inizio. A presto! Grazie per la visione!